Grazie. Abbiamo fatto un paio di connessioni pre-intervista. Intanto ricordiamo 1950 è l'anno di nascita? 52. Come Oriani, come Graziani, come Calloni. Quartiere? Battezzato prima in via Mozart, poi zona di Porta Genova. Si è bloccato qua. Eccolo, così va meglio. Ho switchato qua, speriamo vada meglio. Come Oriani Graziani, milanese, quartiere, dicevamo Alberto? All'inizio ho vissuto in via Mozart, dietro Piazza San Babila, poi in zona Porta Genova. Ecco, i momenti chiave proprio della carriera, della sua traiettoria professionale. Intanto, la cosa per la quale passerà la storia sul piano giornalistico qual è? Beh, io ho avuto la fortuna di essere l'unico giornalista della Gazzetta nella storia, ad avere assistito dalla tribuna stampa a due mondiali vinti dall'Italia nel 1982 a Madrid e nel 2006 a Berlino, con Berzot e con Lippi. 2006, da prima firma, 82? 82 ero al seguito della nazionale da tre anni. Io ho seguito la nazionale per 31 anni, 305 partite e dal 2004 sono stato la prima firma della Gazzetta, per cui nel 1982 ero un cronista che seguiva soprattutto le interviste con i giocatori. Nel 2006 ero la prima firma per cui mi occupavo dei commenti e delle analisi tecniche sulle partite. Quindi, ma 31 anni dal campo, praticamente ovunque sulla nazionale? Ho seguito la nazionale dal 17 novembre 1979 a Udine, un amichevole contro la Svizzera, fino al maledetto 24 giugno 2010 a Johannesburg quando l'Italia è stata eliminata dalla Slovacchia. Quindi in 305 partite ho seguito l'Italia in tutto il mondo dove ha giocato la nazionale, da Berzot all'inizio fino a Lippi, ho seguito l'Italia con 8 CT. E il suo preferito dei CT, vabbè, in genere in questi casi Berzot è quasi horscaterroi. Berzot secondo me è stato il miglior CT dell'Italia, non a caso è l'unico che ha guidato l'Italia in tre mondiali, 78, 82, 86, detiene il record quindi di presenze in panchina, 103, ed è assolutamente un pezzo della storia, non soltanto dell'Italia ma del calcio mondiale. Io devo dire che ho avuto più rapporti con Lippi perché allora ero la prima firma e quindi ho avuto un ottimo rapporto con Lippi che considero il migliore allenatore italiano perché ha vinto con l'Italia e a differenza di Berzot ha vinto anche con la Juventus, Scudetto, Champions League e Coppa Intercontinentale. Invece tra gli azzurri a qual è più magari affezionato e chi è il migliore per lei di questi suoi 31 anni? Io sono molto affezionato a Paolo Pablito Rossi perché dobbiamo tutti tantissimo a questo giocatore, è stato il simbolo dell'Italia che ha vinto il mondiale dell'82, ha vinto il pallone d'oro. Io ho visto Rossi la prima volta in un amichevole Como Verona in un sabato del 1975, lui giocava all'ala destra, era un ragazzino sconosciuto in prestito dalla Juventus, nel Como giocava a Renzo Rossi che era molto più famoso, allora nei tabellini non si mettevano i nomi con le iniziali ma si usava mettere primo secondo, per cui c'era Rossi primo era Renzo Rossi, Rossi secondo era Paolo Rossi. E io scrissi, l'ho fatto vedere anche lui, il vero Rossi sembra questo ragazzino velocissimo, guizzante, che farà carriera. Ho avuto fortuna perché sono stato tra i primi a vedere in azione Rossi quando davvero non era nessuno, e poi l'ho accompagnato per tutta la sua carriera al Vicenza fino alla Nazionale, è stato anche nel Milan e ho conservato un ottimo rapporto con lui, è un ragazzo straordinario al di fuori delle qualità calcistiche. Era un amichevole estiva Alberto e la seguiva quei 35 anni fa, come dire, più il Como più il Verona? Era un amichevole del mese di novembre, un sabato in cui tra l'altro giocava alla Nazionale, ma allora la Gazzetta mandava gli inviati a seguire tutte le partite, io non seguivo né il Como né nel Verona. ero all'inizio della mia carriera, cominciata un anno prima, e quindi andavo a vedere una partita che non aveva alcuna importanza. Poi intendevo Alberto, erano due squadre di serie B e questo mi chiedevo, alla pari? Era un po' più forte il Verona, magari era più, no? No, il Verona era dieci anni prima del suo storico scudetto, quindi era una squadra che non aveva ambizioni e nemmeno il Como le aveva. era un amichevole come tante ce ne sono oggi, e allora, ripeto, la Gazzetta mandava l'inviato. Oggi nessun giornale manderebbe un inviato per seguire un amichevole di scarsissima importanza. Restiamo su di dei. Il migliore scoop, la migliore intervista? Il migliore scoop credo che sia stato quello del 14 gennaio 1986, quando ho scoperto Gullit che veniva a Milano a fare le visite mediche segretamente, perché lui era un giocatore del PSV a Eindhoven, era un mercoledì, aveva avuto un giorno libero, ed era venuto a Milano per fare le visite mediche perché sarebbe diventato un giocatore del Milan. Nessuno sapeva niente, era arrivata una telefonata al giornale dicendo che c'era Gullit a Milano, nessuno ci credeva. Per scrupolo sono andato in questo centro medico. Per la verità io non l'ho visto Gullit, però ho avuto la certezza che ci fosse. Poi l'ho inseguito per tutta la giornata, ho saputo dove era andato a pranzo in un albergo di Milano, alla sera è partito da Linate, ma lui ha sempre negato a tutti perché si nascondeva di essere Gullit. Ma io avevo la certezza che fosse lui e ho scritto Gullit a Milano e fu un grandissimo colpo. Poi la settimana dopo arrivò la moglie a cercare l'appartamento e poi, come tutti sanno, alla fine della stagione Gullit effettivamente diventò a tutti gli effetti un giocatore del Milan. Ceruti si può sapere, come dire, non la fonte, ma insomma un qualcosa, chi fece quella telefonata in gazzetta, chi fu a darle la certezza definitiva, se non un nome, un qualcosa? No, il nome non l'ho mai saputo. Io ero stranamente al giornale alla mattina perché solitamente andavo al pomeriggio e tra l'altro era un giorno in cui c'era la neve a Milano e era difficile muoversi. Ripeto, 14 gennaio 1986 e arrivò una telefonata al responsabile del calcio che allora era Giancarlo Giugno e mi disse se c'è qui uno che dice che c'è Gullit a Milano e abbiamo detto, ma figurati. Però, per scrupolo, sono andato in questo posto via Visconti di Modrone e ho capito, dal fatto che mi nascondevano molte cose, ho capito che c'era sotto qualcosa di vero e poi ho avuto la certezza nel corso della giornata. Quindi, non ho mai saputo chi avesse fatto quella telefonata, l'ho ringraziato senza conoscerlo e però io, siccome bisogna sempre tentare nella vita, sono andato. Magari, in altri momenti, un altro verbetto, ma figuriamoci, chissà cosa ci raccontano. Invece era vero. altri articoli a cui è più legato. Io ricordo nel scorso decennio alcune puntate con Albertino Bigon, il Sion, poi negli ultimi anni belle interviste a qualche ex, a qualche compleanno di prestigio, ma proprio in assoluto dal, dicevamo dal 74 in gazzetta, vero Alberto? Dal 74. A oggi, perché il rapporto va avanti, con che frequenza oggi di pubblicazione, Alberto? Io sono stato messo in prepensionamento nel 2011 e da allora ho mantenuto una collaborazione e scrivo un articolo alla settimana. Devo dire che sono molto legato a due servizi che io ho fatto che non portano la mia firma, perché io ho sempre cercato di lavorare per il giornale, oltre che per me stesso. È successo nel 1983, ricordo il direttore allora Candido Cannavò, erano passate le 10 di sera, io ero a casa, mi telefonò e mi disse sono nate le gebelline di Sereso, tu che conosci il Brasile cerca di avere le fotografie. mi sembrava una cosa impossibile, io andai al giornale alle 11 di sera, grazie al fuso orario, in Brasile erano 4-5 ore di meno, chiamai un amico fotografo che mi confermò che erano nate le gemelline di Sereso, Sereso giocava nella Roma ed era a Roma, oggi non succederebbe, sarebbe in Brasile con la moglie. e questo fotografo il giorno dopo mi mandò la foto della moglie con le due gemelline Luana e Lorena in braccio. Noi pubblicammo sulla Gazzetta la foto e col titolo Sereso, guarda le tue gemelline. Sereso vide, perché allora non c'erano i mezzi tecnologici di oggi, Sereso vide per la prima volta le sue gemelline su una fotografia della Gazzetta, questo era nel 1983 e io non firmai quel servizio, perché era una fotografia. L'altro servizio al quale sono molto legato è stato nel 2007 in occasione degli 80 anni di Enzo Berzot. Riuscì con la complicità della moglie, signora Luisa, che purtroppo non c'è più, a invitarlo in Gazzetta senza dirgli che ci sarebbero stati i suoi campioni del mondo. Nemmeno Zoff pensava che Berzot venisse, quindi Berzot accompagnato dalla moglie è venuto alla Gazzetta pensando di ricevere un brindisi da parte del direttore che allora era Carlo Verdelli. Si presentarono 14 dei suoi 21 campioni del mondo e io avevo pure che Berzot svenisse dall'emozione perché fu un colpo incredibile per lui e quindi facemmo la fotografia, un grande servizio, auguri a Berzot e il direttore Verdelli mi chiese se io volessi scrivere qualcosa e io disse no, io ho fatto questo incontro, ho organizzato questo incontro per il piacere di fare una sorpresa e un regalo a Berzot. E quindi non uscì la mia firma, mi ricordo che Verdelli giustamente fece scrivere Candido Cannavò, che conosceva anche lui molto bene Berzot e l'aveva conosciuto a Catania e quindi anche questo caso non uscì la mia firma. Sono due servizi che io ho regalato ai lettori della Gazzetta in un caso a Sereso e nell'altro caso a Berzot senza firmare. Ecco, riflettevo, ma le gemelline non è diciamo la figlia, chiamiamola a speciale, insomma c'è un erede di Sereso che viene ricordato per un qualche cosa, non era nessuna delle due vero? No, le ragazzine si chiamavano Luana Lorena, oggi sono delle belle signorine, il ragazzo si chiamava Gustavo che poi è diventato transessuale famosissimo Lea e io ho una foto perché nel 1983, al giorno di Natale, sono andato in Brasile a fare dei servizi e giorno di Natale ero a casa di Sereso, invitato da lui a Belo Horizonte e ho una fotografia dove ci sono i suoi figli e dove ci sono queste gemelline che avevano pochissimi mesi perché erano nate in ottobre e c'era questo ragazzo, allora ragazzo, che si chiamava Gustavo e quindi nella foto ho questo bambino che poi ha cambiato sesso per altre scelte sue del tutto personali che rispettiamo.